Le norme internazionali per la sicurezza dei caschi sono molteplici. C'è uno standard europeo, la ECONU 2205, ma esiste negli Stati Uniti uno standard DOT del Dipartimento del Trasporto Americano che prevede una serie di prove simili ma anche diverse per modalità e per tipologia. Ci sono normative anche più severe per quanto riguarda le competizioni per esempio automobilistiche quali la Snell e recentemente la FIA. Da ogni paese quindi ci si possono aspettare norme specifiche di riferimento con caratteristiche che possono essere chiaramente la protezione della testa del motociclista ma con modalità diverse tra loro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS